Ben trovati da TG della mobilità sulla ferrovia Roma Nord, dal 23 luglio all'8 agosto sono in programma lavori di rinnovo nella infrastruttura ferroviaria acqua acetosa per lasciare spazio al cantiere, la circolazione ferroviaria sulla linea sarà sospesa tra Saxarubra e Flaminio. Nel tratto interrotto ci sarà un servizio bus sostitutivo confermate presso le stazioni vicine. È tutto per questa edizione del TG della mobilità.